Ciao a tutti, buon anno, buon 2023, siamo alla nuova base di Arca dove stiamo continuando i lavori del quarto step di miglioria della barca, siamo arrivati al step finale, stiamo cambiando tutto l'impianto idraulico, avremo un impianto finalmente di nuova generazione progettato e costruito da Cariboni che è il leader in questo campo nel mercato della nautica, è un lavoro molto impegnativo perché abbiamo dovuto smontare completamente tutto l'impianto e mandare via soprattutto la parte motoristica che poi sarà la base di tutto questo impianto, i ragazzi stanno lavorando a sodo come sempre, cercheremo di essere pronti per fine marzo, la barca andrà in acqua in aprile dove faremo i sea trials e successivamente la trasferiremo a Napoli per le regate del Tregolfi il 12 maggio, avremo comunque degli eventi prima della Tregolfi dove faremo un team building che di quest'anno ne abbiamo tantissimi di questi eventi, ma non voglio raccontarvi tutto perché sennò poi vi annoiate e vi lascerò le ultime news nei prossimi appuntamenti. Grazie per seguirci, state con noi che abbiamo bisogno del vostro tifo.